di youtube buonasera dal vostro lino juventus è cominciata l'ennesima pagliacciata contro la juventus ovvero di giocatori che vanno in nazionale sapendo che la giornata dopo c'è la juventus si fingono infortunati si fingono infortunati se ne tornano a casa propria e niente poi all'improvviso l'infortunio sparisce e quasi quasi stanno bene l'ultima non so se avete seguito la vicenda ciro immobile si parlava di un lungo stop addirittura si parlava di un mese di stop pagliacciate stronzate ad oggi si viene a sapere che immobile molto probabilmente potrà scendere in campo con la juventus che l'infortunio è venuto è venuto la fata turchina con la bacchetta magica e ha fatto guarire il problema immobile quindi automaticamente immobile si prepara si sta scaldando per essere in campo con la juventus e continuano queste pagliacciate di questi falsi infortuni che poi alla fine chi lo prende in quel posto là siamo noi siamo noi della juventus sono i giocatori nostri perché con noi i giocatori vanno in nazionale guarda bernardesca ha giocato 5 minuti si è infortunato cioè noi abbiamo una maledizione che i giocatori nostri vanno in nazionale e si infortunano gli altri fanno fin di infortuni e poi alla fine recuperano e giocano quindi questo per me deve essere una cosa che la figgc deve sanzionare questi giocatori qua perché se tu vieni convocato in nazionale come giocano gli altri devi giocare pure tu non che queste società si inventano infortuni e vola l'azzo e noi giocatori dun'apro e noi giocatori della roma quando sanno che la partita dopo c'è la juventus vanno in nazionale sono infortunati auto tornano a casa un mese di stoppo di un infortunio e poi papà e recuperano le infortuni e automaticamente vedrete vi garantisco che immobile domenica ci sarà sabato ci sarà con la juventus e questa è l'ennesima buffonata di questi giocatori ecco perché se non vanno agli europei io so con te perché questi giocatori qua non meritano niente a parte che sta squadra qua oggi sto leggendo tante critiche ma perché ragazzi ma la squadra che ha vinto l'europeo era una squadra forte tu hai vinto un europeo senza punte hai vinto l'europeo che di lorenzo che emerson palmieri cioè che oggi bernaldeschi a sport media set ha detto noi sappiamo chi siamo ma chi siete chi siete ragazzi bisogna estrobare l'europeo se lo giochiamo un'altra dieci volte a parte con l'austria se non annudano il collo a arnautovic l'italia è fuori quindi bisogna essere obiettivi tu hai vinto l'europeo senza attaccanti senza attaccanti e quando ti capita più di vincere una competizione con quella squadra là cioè bernaldeschi campione d'europa emerson palmieri immobile che sono andata là si fa la colla si aspettavano i colli degli attaccanti i partiti fenevano tutti quando a zero per noi facevano collo agli avversari quindi di che cosa parliamo un europeo purtroppo che è una squadra dei giocatori che ora hanno vinto questi europei si sono montati pure una capo ma questi giocatori che hanno vinto gli europei si sono montati pure la testa immobile insignia quindi sono buoni giocatori di serie piccoli là insignia vado a trovare 7 milioni fa bene che il napoli lo cacci insieme 7 milioni che hai vinto tu a napoli cosa hai fatto tu a napoli cosa hai vinto e pretende perché sei campione d'europa che significa pure la meli è stato campione del mondo del 2006 che significa quindi ragazzi queste buffonate che si guardano sempre poi se tu vuoi guardare tutte le altre nazionali stanno tutti quanti che giocano solo nella nazionale italiana stanno questi finti infortuni i giocatori che rientrano a casa poi contro la juve la domenica ma dopo sta sempre puntuale sempre la che giocano e niente ragazzi questo è un più close focus che diciamo volevo fare con voi perché queste buffonate si ripetono ogni volta che c'è la nazionale e che le squadre che devono giocare la giornata dopo con la juventus che sono in nazionale tornano tutti quanti a casa mentre i nostri danno sempre l'anima tu vedi bernardeschi 3 minuti sei infortunato cioè ragazzi senza parole senza parole quindi vedremo che succederà io dico la mia secondo me immobile sabato gioca con la juventus poi magari mi sbaglio però se fosse così io credo che la figi ci dovrebbe punire questi falsi infortuni ragazzi vi mando un abbraccio sempre fino alla fine grazie a tutti